Torna a Treio all'isola Tiberina da venerdì 20 a domenica 22 settembre, la più grande manifestazione della destra italiana. Quest'anno ospita ben due capi di governo, Giuseppe Conte e Victor Orban, diversi ospiti internazionali, Matteo Salvini, tanti ospiti della politica anche nazionale per tre giorni aperti a tutti gli italiani che vogliono venire ad ascoltare un'altra visione di Italia.